Ciao a tutti e bentornati amici di Michelinio Channel a un nuovo episodio dedicato a Troy Total War. Come sapete abbiamo appena terminato una serie esplorativa con Odisseo. È stata una serie bellissima e mi ha fatto innamorare di questo gioco e ho avuto modo anche di raccogliere moltissime delle vostre osservazioni nei commenti. Alcuni lo apprezzano tantissimo, altri hanno fatto notare alcuni limiti, specialmente sull'intelligenza artificiale, che effettivamente anch'io ho riscontrato. Ma al netto di queste piccole smussature che andranno magari a sistemarsi nel corso del tempo, io credo che Troy Total War sia un giocone. Di conseguenza adesso che mi sono un po' più impratichito con le meccaniche di gioco, pensavo di fare una serie vera e propria. Il Let's Explore è durato davvero tanto per essere un Let's Explore, quindi la serie esplorativa è durata davvero tantissimi episodi che sono a disposizione per tutti nella playlist di Ulisse. Adesso iniziamo una nuova campagna e andiamo a vedere... abbiamo visto i Danai nello scorso Let's Explore, adesso andiamo a parlare dei Troiani. Troiani che io non ho mai provato. Quindi anche questo per me è una sorta di Let's Explore, nella misura in cui non conosco bene la geografia delle città, non conosco bene quali siano ad esempio le creature mitologiche reclutabili, quali siano le risorse che possiamo recuperare, però ormai conosco il gioco, conosco le unità, le risorse, la diplomazia. Ettore, elmo abbagliante, è il campione di Troia ed erede di re Priamo. È una difficoltà normale, la tribù è quella dei Pelasgi. Ah, se sbaglio gli accenti ragazzi, non avanzatemi perché succederà sicuramente. Poi c'è Paride, un altro principe di Troia. Paride, figlio di Priamo, favorito della diafrodite, ha dato il via alla guerra con l'Acaia, prima rapendo e poi sposando la meravigliosa Elena, moglie del re spartano Menelao. Difficile come inizio. Enea è il temibile guerriero figlio della dea dell'amore a Frodite, parente di Priamo e, in termini di valore militare, tra gli alleati di Troia. È secondo solo ad Ettore. Anche lui è della stessa tribù dei Pelasgi, la fazione è quella della Dardania. Non ho parlato delle fazioni, scusate, di Ettore, Ettore di Troia, Paride di Troia. E qui la Dardania. In ultimo, ma non per importanza, abbiamo Sarpedonte, proveniente dalle terre dell'Alicia. Sarpedonte è rinomato su entrambe le sfonde del leggeo per il suo valore e per la maestria delle brutali arti della guerra. Si dice che sia il figlio dell'Onipotente Zeus, tribù delle leggi e fazione dell'Alicia, quindi più Asia. Giocheremo, come vedete, con il buon Enea. Il buon Enea, a cui adesso io vado a fare una bella foto, perché poi queste le uso per le copertine. Fatta la foto, adesso clicco su Enea. E insieme a voi vado ad imparare per la prima volta i bonus e gli svantaggi di Enea. Chi ha letto l'epica greca sa che Enea è poi quello che, secondo il mito classico, va a fondare Roma, una volta che Troia è in fiamme, no? Si carica sulle spalle Anchiese, il figlio lo segue, e scappano da Troia in fiamme. Io voglio immaginare che se vincerò questa campagna, comunque Enea deciderà di salpare alla ricerca di nuove terre e fonderà comunque Roma, e se perderà invece perlomeno mi, come dire, sarò contento di poter dire, sì, abbiamo perso, ma almeno avremo fondato Roma. Allora, questa è una curata per evitare di finire male. Ok, giochiamo a difficoltà normale, difficoltà normale, sia nella campagna che nella battaglia. La situazione di partenza è anche normale, quindi è un po' più facile rispetto a quella di Ulisse che partiva con una difficoltà molto più difficile. Presagi divini, questa è la fazione. Consuma risorse in un sacrificio per ricevere missioni dagli dei, completa le missioni per ottenere ulteriore favore divino. Quindi possiamo chiedere agli dei di darci delle missioni. Molto bene. Voci dell'ostige. Puoi chiedere consiglio agli eroi defunti per ottenere svariati benefici. Ah, quando lo farai la felicità e il favore divino diminuiranno. Quando in guerra moriranno eroi importanti, potrai parlare anche con loro. Espandendo il tuo dominio, potrai imbatterti in un luogo in cui riposa un eroe antico e avrai l'occasione per parlarci. Praticamente, voci dell'ostige significa che noi parliamo. L'ostige è il fiume dell'Ade, il fiume dell'oltretomba greco, e noi possiamo parlare con l'oltretomba. Wow, Enea! Mistico! Stile di gioco raccomandato. L'organico di Enea fa affidamento su di una grande quantità di unità leggere, discrete ed economiche che possono essere impiegati in attacchi adondate prima che l'affanteria è pesante, si unisca alla battaglia. Gli eroi sono schermagliatori arcieri, campioni combattenti e mentori condottieri. Non abbiamo la possibilità di reclutare dei difensori. Secondo me neanche Odisseo poteva. Vabbè, comunque lasciamo perdere. Unità abbiamo gli assalitori dardani, 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 oh Gesù, la marmaglia, gli spadaccini impavidi, i difensori e la folla. Ok. Come eroe abbiamo Enea, che è figlio di Anchise e Afrodite. Il favore di Afrodite sale di uno per turno e abbiamo un meno 10% del costo di mantenimento per l'affanteria leggera del suo esercito. Allora, Enea è un'unità, è un eroe che combatte su campi probabilmente abbastanza, anzi campi di qualsiasi tipo, foresta o pianura. L'importante è che ci sia un'unità leggere che possano muoversi rapidamente, magari anche fare piccole imboscate e poi è una fanteria pesante che carica quando il nemico è stremato. Rivendica il tuo destino. Andiamo ragazzi. Siamo marionette nelle mani degli dèi? O invochiamo l'influenza divina per giustificare le nostre condicette? Ragazzi, Barbotto è con noi, Barbotto è con noi. Sto raccontando la storia un'altra volta. È Barbotto, lui lo riconosce. L'ha preso! L'ha preso la mia figlia! L'ha preso! L'ha preso! Troia! Troia è mio lato! Tu hai mio amico, Brotto. Tu sei tornato a te. Brotto, io potrei combattare! Perci, tessere il canale. Ci sarà abbia abbastanza di combattimento in avanti. E così inizia la campagna degli eroi troiani. Una figlia che si abbatterà violenta su Troia. Aride agì per amore, ma ha scatenato una guerra. Se le mura di Idio resisteranno, solo gli dèi possono dirlo. Wow, wow, ragazzi, sono già carico. Sono già carichissimo e non vedo l'ora di iniziare. Enea, figlio di Afrodite e di Anchise, è pronto. Andiamo a vedere dove ci porta il barbotto. Ai ai ai, a Sparta qualcuno è un po' arrabbiato. Enea, tuo cugino Ettore è il figlio maggiore di Re Priamo ed il miglior guerriero di Troia. È ben al corrente dei pericoli in arrivo da Ovest. Aresbe è stata devastata da recenti incursioni da parte degli Eoli. Ora sei in guerra con Re Merope. Guarda a Settentrione dell'Ellesponto. Lo stile Kherson cerca di controllare questa penisola di vitale importanza strategica. Ok. Sembra che i nostri obiettivi siano rivolti più a nord. Sacre sorgenti dello Scamandro, tuo cugino Ettore governa con saggezza in nome di Re Priamo. Suo fratello Paride regna da una città ben costruita che si affaccia sull'Egeo. Sulle isole occidentali, un altro dei principi di Troia, Troilo, toccato dagli dèi, protegge la costa da immuzioni ostili per aiutare tutti i navigati. Sì, io ho questa senza passione, tuoi possedimenti. Poi assisti i tuoi cugini contro l'incombente tempesta Achea. Va bene. Barbotto, grazie per questa introduzione. Ringraziate Barbotto, mettete un bel like. Effetti della fazione, presaggi divini e le voci dell'Ostige, le conosciamo. Ora, abbiamo la prima missione. Sconfiggi il nemico, sconfiggi un esercito della fazione degli Apaesos. Guadagneremo cibo e guadagneremo bronzo. Questa è la mappa della Grecia, dell'Ellade. E noi siamo praticamente a Dardania e Abido. Cliccando, vedo che Pityussa e Arisle sono città ancora praticamente... Arisle tra l'altro è completamente dissutta, la potremmo addirittura colonizzare. Qui c'è Castro, l'esercito nemico. Invece, l'altra città, che è Pityussa, è qui a nord. E a sua volta produce cibo. E appartiene a Merope di Apaesos. Che è in guerra contro noi e Ilion di Irtaco. Ilion di Irtaco, immagino, sia nostro alleato, giusto? Accordi nell'aggressione, transito militare. No, non abbiamo alleati. Quindi dobbiamo essere, secondo me, abbastanza rapidi nell'andare a prendere anche questa città, Pityussa, perché in questo modo... Pityussa... Perché in questo modo avremo completamente il controllo della Dardania. Che è praticamente, per dirla in breve, la regione del cosiddetto stretto dei Dardanelli. Giusto? E in questa regione il controllo è importante. Va bene. Adesso che abbiamo dato un'occhiata alle nostre regioni e alle nostre città, guardiamo gli eserciti. Enea guida una truppa... È livello 1. Guida una truppa di spade anatoliche, di combattenti con clava, costieri, lanceri d'ardani, assalitori con ascia e schermagliatori leggeri. È strano, perché noi abbiamo un bonus per gli schermagliatori e questo esercito non ha grandi schermagliatori. Tuttavia qui c'è Castore con lanceri giovani e unità abbastanza scarse. Io penso che lo attaccherò immediatamente in questo turno, prima di reclutare qualsiasi altra unità, così poi nel prossimo turno, quello successivo, potrò andare verso Percote, Percote, Percote penso, e assediarla. Nel frattempo però recluterò uomini. Adesso guardiamo le città. Dardano è una città murata di livello 2, ha dei supporti per barche, che non possiamo ancora migliorare perché ci manca il legno, però abbiamo una buona produzione di legno. Abbiamo le capanne della Sawa, più 5% alla velocità di reintegro delle perdite in questa provincia, più felicità, più grado di reclutamento delle sacerdotesse, non male, e poi possiamo sbloccare la marmaglia e la folla da... Ok. Infatti la felicità, ragazzi, cresce a 0,7. L'influenza è molto bassa, ma cambia dello 0,7 per turno molto bene. E qui possiamo già iniziare a costruire. Ho una mezza idea sulla costruzione, ed è un'idea religiosa, ma ne parliamo dopo. Poi c'è Abido che produce pietra, e qui potremmo vedere di migliorare la produzione di pietra. Non ancora, in realtà. Abido potrebbe crescere. Anche a Abido abbiamo le capanne. No, non possiamo farle. Allora potremmo migliorare gli alloggi dei costruttori. No. Io direi che le tende dei minatori di pietra sono davvero utili al momento. E quindi penso che farò questo. Però, prima di procedere con le costruzioni, andiamo a dare un'occhiata ancora ad una cosa. Intanto qui vediamo che abbiamo delle altre opzioni rispetto a quelle di Odisseo. La volontà divina c'è. Presagi divini non ce l'avevamo neanche le voci dell'Ostigio. Andiamo sulla volontà divina. Era Zeus, Ares, Apollo, Athena, Poseidone e Afrodite. Noi abbiamo un bonus con Afrodite. Lo possiamo andare a vedere qua. Vediamo un po'. No, 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 no. Comunque non so dove si vede, comunque l'abbiamo letto prima. L'influenza di Afrodite sale nel tempo. E... Aspettate che... Qui ho aperto qualcosa di... Ok. Ho aperto i presagi divini. Ci dice che se andiamo a spendere oro, bronze, cibo, avremo dei presagi divini. Possiamo farlo fra quattro turni. Bene. Quindi per adesso lo lasciamo perdere. Torniamo un attimo sulla volontà divina. Afrodite. Ci dà una preghiera che aumenta la crescita e la felicità in tutta la fazione. E secondo me farla inizio gioco quando abbiamo un po' di città sarà importantissimo. Inoltre, l'amore delle genti aumenta di 10 le relazioni con tutte le fazioni e raddoppia gli effetti dell'editto organizza giochi. La mela d'ora aumenta la crescita e la felicità. E poi alla fine possiamo reclutare i satiri. Con il livello 3. Mmm, non male. Io partirei con una preghiera da Afrodite che costa 20 oro che ho e 400 cibo che ho. E al prossimo turno Afrodite inizierà a salire. Felicità e crescita. Mi piace, mi piace. Investiamo nel lungo periodo questa volta. Poi, i decreti reali li possiamo fare. Andiamo a sbloccare subito il decreto del cibo. Perché? Memore di quello che è successo con Odisseo, il decreto del cibo qui è importantissimo. Non possiamo fare il cavallo di Troia, credo. Credo che lo possa fare soltanto Ulisse. Beh, poi gli altri li vedremo comunque. E adesso abbiamo... Che cosa manca? Volevo vedere, non la volontà divina, ma le voci dello Stige. Qui io praticamente posso parlare a diversi eroi morti. A Sarako, parlare con il fantasma di un eroe può rivelarsi utile ma farà infuriare di dei. E turberà i mortali. Favore meno 10. Felicità meno 10 in tutta la fazione. Però, per 6 turni, raddoppia la dimensione dell'aura dell'eroe, più 2 del grado di reclutamento degli eroi. Dardano ci dà più cibo. Aumenta il movimento degli eroi e il cibo in tutta la fazione. Ilo, il costo di costruzione di tutti gli edifici principali è scendere il 20%. Secondo me è troppo presto per le voci dello Stige perché questi bonus non avrebbero... Non ripagherebbero il costo, secondo me. Quindi, vediamo. Adesso diamo un'occhiata alle notifiche. E ne hanno spostato. Dardania, costruzione a disposizione. Io, ragazzi, vado a consacrare la Dardania ad Afrodite. Il che ci darà favore, numero di sacerdoti, felicità, eccetera, eccetera. Questa è la prima struttura che vado a fare. Quindi, un tempio alla Dea Afrodite. Che è nostra madre, tra l'altro. Un po' per gioco di ruolo, un po' perché penso che sia una buona idea da provare. E adesso? Adesso ci si butti in battaglia contro Castor. Che poverino. Che poverino delle truppe. Non so se avete visto il rapporto di forza, ma... La strada di Apaiosos è veramente spacciato. Andiamo a vedere Enea in battaglia. Iscriviamo l'esercito. Iniziamo subito la battaglia. E direi di mettere in avanti gli schermagliatori. Questi li posso tranquillamente mettere in linea. Enea dietro. Enea che bonus ha? Marcia di Hermes. Hermes, il dio della velocità, del commercio, dei viaggi. 40 secondi incide sugli alleati nelle vicinanze. Più velocità, più resistenza. Ottimo. Ottimo che Enea possa potenziare i propri uomini. Adesso ci mettiamo in posizione. Io suggerirei con i nostri schermagliatori di attaccare i fromboglieri avversari. E poi di caricare direttamente senza perdere tempo. Mentre Enea caricherà Castore. Le nostre altre unità andranno dritte verso le lance nemiche. Questi due spadaccini magari mi diventano un gruppo 2. Questi potrebbero essere il gruppo 1. Questi il gruppo 3. Enea il gruppo 4. Il gruppo 2 potrebbe fare un giro attraverso la foresta. Li lo diamo già per accertiare il nemico. Il gruppo 3 attacca il gruppo 1. Si posiziona in campo aperto. E poi carica. Vediamo. Questi sono fromboglieri. Adesso vedete che... La nostra linea di tiro arriva a colpirli. Arrivano i dart. Arrivano i giavellotti. Scende un po' la loro forza. Ma non ne muore nessuno. Seconda ondata. Scusate ma perché mi dice sempre 68? Non è possibile dai. Sono noi di 68. Ok stop. Questi mi vanno in flanking. Questi caricano. Le lance caricano queste lance. Poi cosa abbiamo? Gli asseritori con ascia caricano... Queste spade. In mezzo abbiamo delle altre spade. Che caricano i fromboglieri. E qui abbiamo... Delle clave che attaccano le spade. Ho ancora una spada. Che mi può fare un bellissimo. Anzi. Ma in realtà ormai il flanking sarà molto facile per questi. Ok Enea pausa. Enea adesso mi dà la velocità. Ah! Lo dovevo lanciare quando ero in mezzo. Ok. Non è una... Non è una... Un'abilità che si può dare alle unità cliccando su di esse. Colpa mia. Adesso ho imparato. Dovevo essere in battaglia per fare questa cosa. Comunque adesso carichiamo con Enea verso Castore. Le asci a questo punto attaccano Castore stesso. No, voi no. Voi attaccate queste lance. Voi con i giavellotti. Visto che... Praticamente... Diventa un flanking. Anche questo. Ora le spade possono tirare del dritto. Ma secondo me... Secondo me è andata. Vediamo. Allora abbiamo già messo in rotta... I cani militari. Barbotto sente il profumo di vittoria e penso che... Il suo olfato sia molto sopraffino perché lo sento anch'io. E lo cizzo dai. Adesso questi... Tutti questi scappano ma li dobbiamo seguire. Ok, sembra che... Il seguimento sia difficile da farsi. Ecco, era quello che volevo fare. Va bene. Chiudiamo la battaglia. La vittoria è decisiva. La terminiamo. E vediamo un po' che cosa fare. Secondo me potrebbe essere una buona idea quella di utilizzare la vittoria. Se è uguale a Odisseo per gustare il morale delle truppe per un paio di turni. E in questo modo poi reclutiamo nuovi uomini e andiamo ad assediare la capitale nemica nel prossimo turno. Tesoreria. Morale per due turni o unità reintegrate 9%? Morale per due turni. Avanti. Intanto abbiamo guardato cibo e bronzo come missione. Raduna le truppe. Mantieni 12 unità in tutto. Il gioco praticamente mi sta prendendo per mano e dicendo Ok? Adesso se vuoi prendere la capitale nemica È buona cosa che tu potenzi un po' le truppe. E ha ragione. Quindi noi adesso entriamo in abido Dove recupereremo un po' la forza E già in questo turno posso potenziare gli uomini Allora ho soltanto uno schermagliatore e voglio portarlo almeno a tre E poi vediamo Non ho abbastanza cibo purtroppo per i combattenti costieri Però abbastanza cibo per quelli con clava o quelli con la lancia Le clave sono forti Mamma mia Prendiamo allora due fanteria leggera e una fanteria media con clava Il prossimo turno si attacca pitussa Nel frattempo vediamo se ci sono stati notifiche Enea a un livello Oggetti per Enea? Non abbiamo niente Ok andiamo sull'Enea Possiamo sbloccare il seguace di sangue di Eracle Oppure il grido di avvertimento Allora che cosa fa il sangue di Eracle? Fornisce rabbia quando attivato e dà più il 50% l'attacco corpo a corpo di Enea Questo incide sugli alleati dalle vicinanze Difesa dal fiancheggiamento Ah però Difesa dal fiancheggiamento Wow Cioè praticamente io rendo immuni per 50 No Per 120 secondi Dal fiancheggiamento Ma ragazzi lo prendo Mi sembra un'ottima qualità So che il 50% di danno è tanto Ma Enea è un generale È anche un'unità ma preferirei utilizzare per boostare il mio esercito Prendo grido di avvertimento perché mi piace molto Non ho controllato quelli futuri Questo potrebbe essere stato un po' un errore da parte mia Ma penso di aver fatto una buona scelta Ok Credo che per questo turno ci siamo Andiamo al turno successivo E dovremmo avere quindi 12 unità nell'esercito di Enea E forse dovremmo essere in grado di attaccare Pityussa E conquistarla in modo da Prendere la terza città Cibo bronzo pagati Preghiera accolta dalla nostra madre Afrodite Che adesso Scusate è zero Ah certo beh certo certo Non ho fatto le catombe Ho fatto il rito Però la felicità e la crescita per Per sei turni Cresceranno Andranno avanti Riesco a fare un'ecatombe Per Afrodite Costa 500 cibo Lo facciamo sì Perché il cibo sale Chiudi Già accetterebbero Andiamo a parlare con questi ragazzi Che hanno molto Molta legna E quindi facciamo uno scambio con legna Ah beh me ne danno 15 per turno No grazie Scusate E se chiedessi del cibo Quanto me ne darebbero Eh Gesù No non è Non ha molto senso Fare questo Parto di non regressione In considerazione del fatto Che Non Non hanno tutte queste risorse utili Chiudiamo Andiamo a vedere se i frigi Più a nord Accettano un parto di non regressione Anche loro hanno tantissimo Tantissima legna Sì però Scusate 50 per turno È veramente poca roba Lasciamo perdere Andiamo a vedere se Tra gli accordi veloci Ci sono Delle enze difensive Ettore di Troia Ha già un patto Nell'aggressione Non transabilità Aspettiamo Di essere un po' più forti Prima di entrare sulla diplomazia Penso che sia meglio Eroi Guarnigione Non spostato Enea Adesso va ad attaccare Pitius Ed è il momento che Abbiamo Ancora per un turno Il bustale morale Ah però Ah però Non male Non male questa battaglia Perché c'è l'esercito di Euristeo E poi c'è Eh no 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 Aspetta aspetta Circondiamoli Li teniamo lì per un po' Per tre turni In modo che perdano forza Io nel frattempo Voglio vedere se riesco a recutare Un agente Ad esempio Una sacerdotè Un agente epico Non si può Un eroe No volevo recutare Una sacerdotessa Per poter O una spia Per poter rompere Pitiusa Vediamo se adesso Escono Dal loro Assedio E cercano di rompere L'assedio In questo modo Noi abbiamo un vantaggio Altrimenti Aspetto 4 o 5 turni E in questi 4 o 5 turni Nel frattempo Potenzio la mia città E Poi Attacco Pitiusa Cercando di strapparla Però è anche vero Che se aspetto Troppo Potrebbe Succedere Che perdo Delle opportunità Ok D'accordo Facciamo una cosa ragazzi Io per questo episodio La chiudo qui E vi ringrazio Per essere rimasti con me Vi chiedo qui sotto Di darmi suggerimenti Su come vi muovereste Voi su questo assedio E anche Che cosa vi è piaciuto Di più di questo episodio In termini di Abilità di Enea In termini di potenziali Strategie Noi ci vediamo Molto presto Con il prossimo episodio Come sempre Lasciate un bel commento E un pollice in su E per ora Da Andrew È tutto Alla prossima